È il momento di dedicare spazio al palinzesso di Radio Roma e oggi parliamo di Showtime con Brugia e Paciullo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Vediamo. Siamo prontissimi? Sì, siamo prontissimi. Ma che stiamo facendo con me la Brugia? Ah già scusa, facciamo che stai in diretta qui. Scusate, scusate, scusate. No, purtroppo ti hanno riconfermato questa. Ma pure a te? E quindi adesso di nuovo su Radio Roma? Per chi li segue si fanno chiamare Brugia. Si tratta della coppia composta da Danilo Brugia, romano di nascita, attore e cantante e volto noto ormai agli ascoltatori grazie alla sua carriera in tv, nelle fiction, nei musical e nei teatri. E Paciullo, attore, cantante, conduttore televisivo e radiofonico dal sorriso magico, il cui motto non a caso è sorridi sempre. Entrambi con un bel bagaglio alle spalle arrivano a Radio Roma, prima con il programma Vi Piace e ora con il loro Showtime. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, su Radio Roma in FM e al canale 15 del Digitale Terrestre. Una coppia che scoppia per un programma che ha l'obiettivo di intrattenere, di informare e di aggiornare gli ascoltatori su notizie riguardanti il mondo dello spettacolo, del gossip e tanto altro. Abbronzati e felici, Bruggia e Paciullo quest'anno hanno reso più movimentata l'estate romana ad Idromania, perché assieme ad altri speaker della radio hanno scaldato l'atmosfera dell'Acqua Park di Roma a suon di musica, animazione e dirette live della prima radio tv della Capitale. Noi qui non siamo in studio, siamo all'idromania perché abbiamo fatto tutta l'estate qui in diretta e devo dire che se volessimo fare un piccolo bilancio delle stande c'è molta gente che è venuta e la gente anche quest'anno ha scelto l'Italia, non è andata all'estero. No è vero, è vero, ha scelto di venire qua ad ascoltare la buona musica della prima radio della Capitale quindi noi siamo contenti, siamo contenti di tornare in studio, nei studi rinnovati di Radio Roma. Che meraviglia, quindi seguiteci tutte le mattine da lunedì al venerdì, adesso andiamocene. Madonna, vai, ciao.